E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video dove oggi siamo su Roadstars ma sull'accanto dove siamo dei napimi e oggi io ovviamente io ho messo il primo Io ho preso il primo Se ha preso il primo Ma quando l'hai creato questo? Da quel tempo fa E io l'ago Questo è il mio Il primo è il mio Il mio è il mio Il mio è il mio più alto E si ma è uno di più E' uno dei più forti che io so Dai, facciamo il livello delle campioni qua E' un po' di colomento E' uno dei più forti che avete visto che c'è di nuovo Noi stiamo solo facendo coppe del... Ho l'affetto Io facciamo coppe del grepe E' un po' di colomento Quindi lo faccio così io vado a prendere altre e le finisco Ma no Buono bughe, giusto di favore Infatti io glielo dico sempre Ragazzi entrate nel club su Blu whales No, no, no No, 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 no Su posso fare il nostro account E lui c'è lui non ha toccato Tra i jesumi Ah Io non ho letto che ha avuto questo account Io non ho letto questo account Perché Maman C'è questo? Però c'è un paschettino in più mio Guarda, abbiamo sentito tu Ma tu sei ancora full? Lì ce l'ho bella Perché Non ci devo fare tantissimo Non so che nella perima Ci sono le mette in una volta Attentate Non so che Io giro due sin palazzo La data qui non può essere infine Non cambia base Non toccate il cibo Il primo che è avuto la santa 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 La super raggiunta La super raggiunta La super raggiunta Il primo che è avuto la santa Ma adesso ha le... Questi E poi gli speciali aventi Gli aventi speciali Poi gli aventi Ma la mia è broverdita Ma la mia è broverdita Ah! Io ho ancora burro Perchè Perchè Per ora mi chiamo Leon Per ora Perchè 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 No Non si prende Oh No Vallo ad attaccare Perchè Non E' un'unico uomo. E' un'una... E' va bene? Se un'unico uomo... Non mi piace! E' un'una... Non si capisce. E' un'una intupeciata. Posso fare questo se voglio. E' un'una intupeciata. E' un'una intupeciata. Non mi piace. ho fatto il ma non so con Non mi fa mai parlare di più! Facciamoci tutti i modi! Opo! Molto? Molto! Voi studiare! Voi essere giungo a dare uno stradco! I'll mokee will win this game I'll go 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 Miko You can't snake me I'll go Come on Guys I've got a full problem Oh 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 This is so lame Oh I'm in charge I'm in charge I'm in charge I'm in charge Da lo amo In carica You wanna brawl? Vai la vai la Vai la Boom boom 2 milioni di dato A livello 1 Dare avvicinato che è bolle forte E che ha mai detto che bolle è scherzo? Il mondo Bolla è scherzo Prima il mondo Nulla è una pezza Un … Lду Ehi ehi Chi li ha amチoon patients Ehi Io ho trovato uno scendi con zero power drauf in cani. một Solo che è una Superaza ... un mancoino! ... un mancoino! ... un manco dei soldi! ... un manco di radio! ... un manco di radio! ... un giro! No! 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 17 paura. Una volta ho finito con 31 paura. to 21 paura! Ah... Ciao, ciao, ciao! Ragazzi, io mi sono accorto di una cosa. Quando siamo in solo a Sheldon, le squadre spondano a tutti gli scendi. Cioè, mentre... Eh sì! Lo che è? Però non è che non c'è! Io... Io non prendo il succhetto. Non lo dobbiamo prendere. Dai, la conosco. È vecchia quanto i tuoi calzini sono. Ehi! Lo so! Il camper! Lo penso! Il camper! Non prendi il camper! Ah! Poi il posto! Poi il posto! Non prendi il posto! Non prendi il Regno. Ah no, no, no! Non prendi le tempi! È più facile. È più facile. Il camper addi. Ah, è! è mio 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 beh io ho dicono che è mio è mio non c'è tanta differenza let's do this io sono si oh io voglio sbloccare questo cassato si vuoi lo vede è una partita sola let's go get him let's go get him xd 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 Non è buono, non è buono! No, non mi ha spiegato, per favore! Continui! Deja vu, adescri! Deja vu, adescri! Deja vu, adescri! Ahah! Non è buono, non è buono! Non è buono, non è buono! Non è buono, non è buono! Let's do it! Ahah, qui va! Non so che io non sto a calcare, perché non sono bene. Ma adesso? Oh! Oh! Eh lo so, non è buono! Eh ma sono finite! Non è buono, non è buono! Oddio! Let's go! Aspetta, vediamo da quanto sto registrando! Deja vu? Eh, undici minuti! Eh, undici minuti, ok! Let's go! Infatti, la mia buona è buona! È il primo! Anche le missioni! I! I! Okay! I! I! Non mi scelgo il primo, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, dobbiamo confingere, dobbiamo prendere tutto d'altro, dobbiamo fare in tutto. Ok, ho stoppito un nemico. Iuto! Mamma, io è stato solo vincere. E te lo lasciati. Ho deciso. No, mamma, 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 mamma. Basta, spero che mi viene a ritare con un'altra. È morto? No. Oh, non so. Capacelli, se ne è il coraggio. È mi sa che è inaurabile il coraggio di scappare. Amo, mamma, mamma. No, mamma, mamma. 2 partite e 2 partite Sì, io qui. Che lo fa? Let's go get him. Io vado a prendere i power up centrali. Io vado a prendere quelli lì laterali. Edda, Edda. Edda. Eddi, eddi, eddi. Sì, non c'è più. Il fiume lo ha chido. E' un pollo. Sì, non c'è. Aspetta un'altra stiamo facendo una papilla Ragazzi, mi sapete che tu lo continui a vedere Una chiesa Vieni 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 Dai Ok ragazzi, andiamo a concludere il video qua Let's go Ok ragazzi, per questo video possiamo concludere qui Ricordatevi di iscrivervi e di attivare la campanellina E per questo video possiamo concludere qui Ciao ragazzi, mettete... Ciao